Sono venuto per introdurre il Presidente Casini. Questa è la vera essenza della mia presenza qui. Presenza che nasce dal fatto che io quando leggo il nome del Professor Cassese batto i tacchi e corro. Quindi queste due cose. Ma già che sono qui, approfitto per intanto esprimere l'apprezzamento dell'Associazione, del nostro rapporto con IRPA, del fatto che possano nascere pomeriggi come questo, con persone così autorevoli, sia tra i relatori sia tra il pubblico, ad ulteriore dimostrazione di come questa cosa funzioni e di come abbia senso per l'Associazione Civita. Perché il lavoro che noi come associazione stiamo cercando di portare avanti è proprio quello di estendere il termine della cultura. L'Associazione nasce tantissimi anni fa per mettere insieme il pubblico e il privato nell'ambito dei beni culturali, in estrema semplificazione. Credo che col passare degli anni pubblico e privato sui beni culturali collaborano e interagiscono, anche se c'è molto da fare. Credo che ci sia un gap culturale forte che si è sviluppato nel nostro paese e noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare un contributo. E quando parlo di gap culturale parlo anche di più ampia comprensione di quale devono essere i rapporti tra privato e pubblico, portando questo concetto oltre i beni culturali. Ed è chiaro che un grande tema che è collegato al titolo, legato all'incontro di oggi, è proprio il rapporto con la pubblica amministrazione. Ed è assolutamente evidente che noi proprio a livello sociale, a livello di percezione popolare, abbiamo completamente perso il senso del valore della pubblica amministrazione. Ed è assolutamente evidente che nel corso degli anni alcune inefficienze hanno fatto perdere fiducia nella pubblica amministrazione ai cittadini, ma siamo arrivati ad immaginare e a teorizzare un mondo nel quale la pubblica amministrazione è un problema e non è una potenziale soluzione. Ed è evidente ed è sotto gli occhi di tutti quanto questo crea i danni, quanto questo peggiori la nostra condizione di essere cittadini, ma soprattutto crea un gap fortissimo rispetto alle altre nazioni che per quanto sono battute da venti populistici, da problematiche simili alle nostre, non sono arrivate a questo grado di disconnessione tra il privato e il pubblico. E per questo credo che un pomeriggio come questo sia molto importante, credo che sarà interessante per tutti noi ascoltarvi, credo che riportare al centro del dibattito la pubblica amministrazione intesa come uno strumento, non un corpo intermedio che rallenta l'autonomia dei cittadini e la funzionalità del Paese, ma come uno strumento fondamentale per fare in modo che il Paese funzioni, sia una discussione necessaria. Per fare questo c'è bisogno di persone di qualità e c'è bisogno di persone che abbiano un grado di competenza superiore alla media. Tutti elementi che questo pomeriggio ci sono, quindi ho nel lasciare la parola al Presidente Casini. Vi ringrazio ancora una volta per l'opportunità. Grazie. Grazie.